La rimozione dei binari dell'ex ferrovia adriatica in piazza Martiri Pennesi a Pescara è stata denunciata dal presidente d'Italia Nostra, Massimo Paladini. L'architetto Paladini ha sottolineato che durante i lavori della nuova sistemazione della viabilità in corrispondenza dell'ex passaggio a livello di piazza Martiri Pennesi le due rotaie sono state rimosse ed accantonate nel cantiere. Dopo alcuni giorni delle rotaie non c'è più traccia. Paladini teme che siano state smaltite in una discarica. Architetto, nel 2022 il sindaco Carlo Masci aveva accolto la vostra proposta di conservare la memoria storica del tracciato qui in piazza dei Martiri Pennesi a Pescara conservando le rotaie. Nel 2024 vediamo che sono state rimosse. Cosa è successo nel frattempo? Questo vorrebbero averlo anche noi perché noi avevamo notato che in un luogo significativo perché questo era un ex passaggio a livello quindi era nella memoria di tutti quelli che ci passavano in macchina, in bicicletta eccetera erano rimasti a raso dell'asfalto i due binari originari della ferrovia adriatica. E allora noi abbiamo avuto, come l'avevamo già proposto per Corso Vittorio Emanuele e in altri luoghi, abbiamo avuto l'idea di conservarli più che per il loro valore intrinseco che naturalmente non c'è ma è un valore testimoniale per dirlo ai nostri figli, ai nostri nipoti che qui passava la ferrovia che ha determinato, ha generato Pescara e che oggi probabilmente se parliamo con un nostro nipote stentiamo a farci credere. Allora noi l'abbiamo proposto al sindaco il quale tempestivamente ha risposto che era d'accordo perché insomma mi sembra un'iniziativa condivisibile e avrebbe dato le disposizioni del caso. Italia Nostra si era detta disponibile anche a realizzare un'apposita targa esplicativa da sistemare nella piazza per raccontare il passato della storica linea ferroviaria adriatica. Nei giorni scorsi Paladini ha scritto al sindaco per chiedere le ragioni della rimozione dei due binari e se una volta ultimati i lavori di bonifica le rotaie saranno riposizionate al loro posto. Proponiamo di ripontare i binari nel luogo in cui erano a testimonianza di un passato che è il nostro ieri e che non possiamo dimenticare per impostare il nostro domani. L'architetto Paladini nell'evidenziare il rapporto difficile che la città di Pescara ha con le testimonianze storiche ferroviarie ha citato il ponte di ferro, la vecchia stazione di Pescara e il deposito Exfea e la stazione di Porta Nuova abbattuta e cancellata. Auspica infine che due binari vengano riposizionati al loro posto. Certamente io credo che prendere i due binari che spero non siano stati ancora buttati in qualche discarica riposizionarli secondo un elementare disegno di parallele che insomma non è difficile da ricostruire e apporre lì un cartello che spieghi di che si tratta è un piccolo regalo che possiamo fare alla città.